Eccoci ad Apice, non si sente nulla. Silenzio. Al massimo i rumori dei nostri passi. Un antico arco chiuso. La chiesa principale. Casa vecchia e abbandonata. Siamo soli in questa città morta. Soli. Nessuno interviene. Piccoli e abbandonati. A loro stesse. A piccoli. La chiesa è una fantasma. Passi. La chiesa. La chiesa. La chiesa.